Cos'è l'abuso narcisistico? L'abuso narcisistico è principalmente inflitto emotivamente, ma può diventare fisico, ed entrambe le forme possono causare dolore a lungo termine per la vittima. L'aggressore soffre spesso di disturbo narcisistico di personalità, NPD, un disturbo che consente al paziente di sentirsi onnipotente creando una falsa autostima che è in definitiva superiore a tutti gli altri. Quelli più vicini all'abuso subiscono le forme più estreme di tormento mentale ed emotivo. Le relazioni e i familiari soffrono di più perché è il graduale cambiamento di personalità a mascherare i problemi sottostanti. All'inizio, un coniuge narcisista, un membro della famiglia, un collega o un amico appare presuntuoso, ma in seguito il complesso di superiorità che causa alla persona di scagliarsi supera di gran lunga la semplice arroganza. L'abuso narcisistico inizia perché chi abusa deve acquisire il controllo sugli altri e, per avere successo, deve sminuire le vittime facendole sentire emotivamente e mentalmente incompetenti. Il narcisista potrebbe repetutamente dire alle vittime che sono inutili o umiliarle in pubblico. Lui o lei sente che ritirando la sua approvazione, la vittima cadrà ulteriormente sotto il suo potere nella speranza di ottenere l'accettazione. L'aggressore usa metodi di insulto, imbarazzo e punizione per distruggere l'autostima della vittima, che alla fine porta la vittima a credere effettivamente che lui o lei è senza valore. Il ripetuto abuso narcisistico può diventare lavaggio del cervello e esaurire la vittima fino al punto di disperazione. Il narcisista può diventare violento e provare piccoli rimorsi perché crede che questo tipo di comportamento sia appropriato. L'aggressore ritiene che le sue azioni siano giustificate perché si tratta di azioni di un essere superiore, indipendentemente dal fatto che siano dannose o illegali. Il deterioramento mentale della vittima è un segno che lui o lei ha bisogno di aiuto. Esiste un ampio processo di recupero per l'abuso narcisistico che inizia con l'auto-educazione. La vittima e l'autore della violenza dovrebbero cercare guida e trattamento separatamente, perché il processo è diverso. L'abusato dovrebbe essere ben informato sulla malattia che infligge l'aggressore per capire che non è colpa sua come vittima. Vi sono numerosi gruppi di recupero per le vittime di abuso narcisistico e sono disponibili terapie individuali. Il malato di NPD dovrebbe anche cercare consulenza per capire meglio la malattia e valutare il grave problema sottostante che stimola il disturbo. La varietà di supporto e informazioni disponibili sull'abuso narcisistico è un buon punto di partenza perché aiuta la vittima a riprendere il controllo della propria vita. I gruppi di supporto permettono agli abusati di comunicare con altri che stanno subendo traumi simili e possono alleviare lo stress di sentirsi irrimediabilmente soli. Grazie. 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 Grazie.